ragazzi benvenuti su golf it allora ho letto un po dei vostri commenti e mi avete chiesto di fare un golf it in team e quindi oggi faremo proprio così due versus due quindi sommeremo i tiri delle due persone nello stesso team e vedremo chi ha vinto e per poter estrarre i team ragazzi clickbait ruota della fortuna allora vado ad estrarre la prima persona siete pronti io spinno la wheel vado eh allora gira la ruota gira la ruota il primo ad uscire sono io sono io che andrò in team con via vado gira 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 con tani ok ciao eren ok ragazzi quando giochiamo in team io e te vinciamo sempre non hanno un hc tiar esatto ok si può partire raga allora la pista non è difficilissima e ve lo dico l'ho fatta apposta perché voglio solo all in one si ho già missato simon no ok ragazzi io ho missato io ho missato io ho missato faccio faccio in due in due è il minimo che vuoi fare eh si danny mi raccomando eh che io sono già in crisi in crisi un po' per poco crisi nooo no 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 eren 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 l'ho fatta in quattro io in quattro voi tutti siete in crisi eh un pochino si io anche eren però eh si si eren si eren torna indietro ciao eren ciao torni qua mi sposti anche no vai tec prego si no vado vado eh io vado mano nella mano no sono andato troppo di là no si si cosa ho fatto ho ribalzato non ci credo non ci credo papi ma stiamo facendo un golf padre figlio si si sei sei il mio figliolo mi raccomando quattro tire anch'io hai visto ci sono passate poi sono tornate indietro si ho visto visto vediamo eren oh ciao allora papi noi abbiamo un totale di otto loro per adesso hanno sei si 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 dai 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 non ti preoccupare figliolo se ti comporti bene ti compro il gelato domani va bene papi bravo e adesso da qua la puoi bucare da qua la puoi bucare la grande mi pare il giorno al massimo ok ok siamo pari ok perfetto perfetto cominciamo subito guarda vuoi dire che era fear che figa oh vediamo stai zitto qua è tutta questione di tempistiche questione di chimica ok son passato son passato si non entrare non entrare non entrare fermati fermati grande grande eh madonna quelle pale quanto sono antipatiche allora quelle pale mi stanno sulle pale no troppo forte no perino sotto sale se passo sopra si dentro 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 che lui ho fatto un bird io peccato che io stia perdendo troppi colpi oh yes no 5 no raga siamo rovinati no ti si ti 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 il mio bird raga per fortuna che io ero quello scarso no ciao ti ti trolle scusate raga lo ripeto di nuovo raga per fortuna che io sono quello scarso ogni volta che fa il gradasso è già 8 è già 8 ciao ti no scusa scusa però mi prendi in giro adesso tira fortissimo allora simo è per dare loro la convinzione che possono vincere si facciamo meno 5 grazie a questa tua bravata 5 ok è un numero allora fatemi capire ma cosa funziona solo con le ragazze ti no io mi sa che vado vado piano 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 buono buono ma in ok ok adesso l'ho finito fuori maledetto pandoro ok no no anche se l'ho finito fuori no no ero finito alla fine e l'ho rimbalzato fuori ma ti pare normale sì ma sì dentro oddio sono rimbalzato dentro non so come non so come non so come anche io in 4 ti renderò orgoglioso non come quella volta che sei andato a ritirare la pagella infatti adesso guarda che arriva giugno mi ha rosicchiato un punto mi ha rosicchiato un punto sì ma lo sappiamo che rosichi ti hanno allora qua bisogna stare attenti secondo me io vado giù la tocco piano sì 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 è la prima sì sì perché devi passare sopra quel buco lì ok ok no dentro no sono tornato indietro porca oh raga l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta quasi l'ho fatta sono passato sopra il fuoco io non so voi anch'io anch'io sono passato sopra il fuoco no 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 dove vai dove vai dentro dentro perfetto raga 5 in 5 lo faccio secondo me ok non è semplice questa no non è facile non è facile Dani rendimi orgoglioso dai papi tirando tirando in queste mappe io cioè in queste piste ho il problema della sensibilità è vero che c'è la sensibilità da editing da editing fatta in 7 ottimo dai io in 5 devi comportarti meglio era il fatto in 4 abbiamo perso ma erano in 9 eh sì abbiamo perso non abbiamo perso punti siamo ah ma in 9 uno solo l'abbiamo perso va bene va bene va bene va bene come è questa doppio zampillo no 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 secondo me si che sono buono bisogna far così esatto esatto adesso bisogna toccarla precisa precisa raga narca troppo piano di un pelino eh io devo andare un po' più forte perché vado così forte invece no 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 tecno 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 sì raga quattro colpi cavolo bravo 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 mi sto facendo perdonare no no io no 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 hai visto sì 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 si entra entro ero dentro sono rimbalzato fuori no ho visto bella bella simu no grazie danni grazie di niente entro ed esco fuori ok grazie posso avere posso avere le carte di yuki assicuro domani dieci pacchetti ne abbiamo recuperati tre qua però qua siamo sotto di due ci stanno recuperando eh danni no 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 eh eren va bene cioè se ci recupera ci sta perché abbiamo sbagliato lo sai oltre che un ottimo fratello un grande uomo mattia grazie daniel lo sai che avrei voluto essere in team con te ok ok sono salito no sono risceso come ha fatto a cadere lì sono salito sono risceso l'ho fatta in tre papi bravo bravo mi copi daniel bravo daniel fallo che ero salito dai no vai eren io credo in te no io credo in te ma io prima ero salito alla prima e mi è sceso giù che fastidio è perché è difficile ma perché c'è sempre ste piste orribili ma è bellissima questa ed è precisione tocco piano ok perfetto ok è fatta 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 totale parità pari voi siete sopra di due ah ok ok perfetto uh uff cosa dove chi tocchiamo la piano ah 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 ok qua è pesa qua è pesa bisogna essere precisi come aspettare danni danni mi sa che devi andare prima te se no ti tocco dentro grande danni passato papi danni ha avuto fortuna oh no 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 passa di là perfetto perfetto adesso mandami su si dentro dentro ok in tre raga papi l'ho fatto in tre papi anch'io in tre anch'io in tre lo sto spostando io dai eren eren già adesso guarda come sta lì a pensarla no perché in chi ci ho messo un colpo in più rispetto a voi ragazzi sono passate noi abbiamo fatto tre più tre ragazzi del resto l'universo è fatto di matematica è grazie alla matematica che esiste noi abbiamo fatto in totale sei voi otto siete sopra di quattro è stata buona questa orca orca quel buco lì non mi piace per niente questa è difficilissima raga allora anche io sono finito fuori ok perfetto adesso si va a toccarla bene caro figlio oh perfetto ci avete spostato molto bene così adesso devo farla giusta no c'è il muro c'è il buco c'è il buco c'è il buco c'è il buco no ci credi che ero entrato e sono uscito fuori di nuovo sì no no troppo piano buco neanche io sono su sono su bella bella è funesta questa buca è funesta sì anch'io sono su no come ha fatto a ricadere tier tier per piacere è la nostra occasione d'oro non andare troppo forte sì sono dentro sono entrato sono entrato sono entrato no è entrato in cinque tec sono entrato da voi ok 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 danny mi raccomando devi toccarla proprio precisa 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 adesso sono tu grande grande danny grande danny vai 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 sì sono fiero di te figliolo grande ciao tier è tornata io vado piano va troppo piano guarda come andava fiero del suo birdie all'inizio una porca raga vi ricordate qualche buco fa quando ti andava fiero del suo birdie sì sì me lo ricordo era il 2009 esatto 2009 abbiamo perso tutto abbiamo perso tutto crisi super nerissima ma perché ma perché tier tanto non ci avrei fatto lo stesso guarda tier è triste all'autostroke di ti ah c'è ancora un tiro no autostroke autostroke sì ma perché le hai fatte tutti lunghi le hai fatte ciao guarda che io sto muovendo il mouse no devi metterla proprio di toccarla proprio non so eh già eh già eh già eh già beh non è detto avrete tec quello che ha dato vita al crisi nera perché era lui che andava in crisi a un certo punto esatto non vorrei dirlo spero che tu abbia passato quella fase ecco vedi vedi ho voluto toccarla lo stesso che c'eri lì davanti te ok passato è impossibile superare tutti e due i muri è certo è impossibile adesso lo scopri invece non l'ho fatto oh sì che entro quasi non andare più in là non andare più in là nozimo che sfiga ok è passato entra entra yes in 5 ok in 5 anch'io no no Dani no va bene va bene va bene dai uno uno di defaio andiamo a vedere intanto gli altri c'è Eren che sta cercando di farla in uno ok uh la spinta ma raga io c'è sono troppo sfortunato oggi però eh vabbè questione di matematica raga qua è è geometria è geometria anche un pochino di geometria madonna c'è il doppio giro della morte fa facile oggi ti avviso ma c'è il doppio giro della morte sì sì il doppio giro della morte ah però ok ma come funziona per quelli che sono già morti dentro sei entrata ahah hai entrato tir ma doppio giro della morte sì ok ok però non sono entrato in tre dai in tre in tre in tre ok in tre e in quattro danni avete recuperato forse un punto eh no no ovviamente non è che può entrare e neanche io sono entrato dai non essere è entrato solo io mi sa eh l'unico è stato Tier bene 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 se non fosse stata per quella dannata buca da 17 colpi eh da quelli manco ci hai provato Tier mi hai proprio fatto rosicare oh 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 vediamo un po' è una buca maledetta sta rosiccando tantissimo oh 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 cosa abbiamo fatto papi mi stavi facendo fare all in one eh lo so lo so ho visto no sempre in mezzo alle pali vai papi vai tu vai tu vado io vado io aspetta perfetto hai papi ti raggiungo piano devi tirare devi tirare piano devi tirare piano lì eh lo so mi sono fatto prendere della mia foga fanciullesca esatto sei troppo precipitoso raga ma tutti che fanno Minecraft e GTA roleplay noi facciamo golf it roleplay la mia foga fanciullesca ecco chiamalo tipo golf it roleplay sì sì lo faccio giuro due versus due roleplay tipo lo chiamiamo crisi ormonale di Dani guarda guarda che entro se non c'eri te entravo in tre sono contento guarda come rosicano sono contento di averti ostacolato va bene va bene va bene ci sta ci sta vai Dani mi ha perso niente no forse non abbiamo guadagnato niente possiamo possiamo sperare ancora sì sì io vedo quel 17 e subito e adesso qua voglio vedervi oddio due colpi papi due colpi io non me la ricordavo anch'io in due grande papi no fracca mi è tornata la palla è andata all'inizio raga all'inizio sono no vai ok ok guardalo il broski comunque Eren a tua discolpa posso dire che chi ha fatto sta mappa è fan della polizia si vede fatte ok no ok sono entrato no io non sono manco entrato sì sì no sto rifacendo cosa cosa cos'è sto in balzo tutto raga cosa sta succedendo no raga cosa sta succedendo sto quasi entrando only one quasi only one se mi spingi entriamo in only one porca ci mancava poco per l'only one birdie perso un altro punto altri due altri tre scusami e mi sono incastato due volte al dietro una volta per colpa di Dani va bene quindi abbiamo già fatto questa mappa a quanto pare e in più non siete neanche riusciti a farla bene un roleplay ovviamente non era roleplay esatto no da raga guarda dove sono andato calcola tech che puoi mettere Eren, Tia, Redlarz nel titolo e guarda ci siamo veramente nel video si esatto perfetto e qua dentro come stiamo passando madonna li ho giampati tutti li ho giampate tutte le eliche io ovviamente sono tornato indietro no io sono qua nella prima no oggi potrei quasi dire che sono on fire perché canta fireball Don Matteo ma senza la d no come ha fatto ma Don Matteo che si veste off white diventa doff Matteo che cos'è noi li abbiamo stracciati stracciati così la prossima volta che mi arriva un invito tuo per golfi te lo straccio io lo stampi non mi vedi più fai lo screen di stream della notifica lo stampi e poi lo strappi nooo abbiamo fatto cazzo tutto dentro no papi cavolo devo andare piano qua devo andare piano qua perché qua bisogna stare attenti ai bucchietti qua che alcuni possono piacere però adesso in questo momento no i bucchetti di tec fate una pagina instagram i bucchi quelli che piacciono a te oh madonna per piacere che la fanno davvero poi ok thank you guys perfetto guarda che entra con la matematica no per poco come ho fatto a passare di qua l'altra volta che ti rischiantato lì oddio guarda che non mi ricordo sarà stato sei mesi fa e perdiamo un altro punto ecco stracciati crisi nera è crisissima questa vediamo un po perfetto ma come potremmo fare qua dite di passare dentro qua ma mi ha portato indietro il video automatico da solo all'inizio per non averlo passato no il mio cappello fedora mi ha impedito di vedere la salitina guarda guarda come si entra in all in 2 no no raga mi ha buttato indietro e poi mi è partito un tiro a caso quindi ne ha sprecati due danni vini qua dal mio colpetto dai papi no al meglio di no entriamo è richiesto a bizzarra no ma come ha fatto a non entrare ma dai ma non è possibile poverino ok va bene vabbè cosa sono Tony Hawk rompiti qualche costola così più realistico guarda 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 dove è dato nella buca numero uno non so se vale lo stesso comunque porca miseria questa giornata al minigolf padre figlio è fantastica non ne facevo una da mai da mai la prima volta nella tua vita vero eh lo so faccio qualsiasi cosa padre figlio però hai fatto i compiti prima di venire qua? come? hai fatto i compiti prima di venire qua? dai mi manca solo da fare grammatica ah ok ah questa è scriptata raga si si questa è scriptata eh vabbè raga no raga ho failato quella scriptata raga se tiara fa all in one se faccio all in one io abbiamo vinto noi non è vero non l'ha fatto ti raga io l'ho missata l'all in one come hai fatto? ha perso la capa scriptata no 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 io ho un altro punto perso adesso sbatte sul bordino esce fuori vabbè non penso che non ci sia bisogno di dire chi ha vinto quale team abbia vinto no? no no io posso dirti chi ha perso che cosa la mia amicizia la dignità cosa non partecipo più a colpi va bene lol Dani ti sei meritato il gelato grande papi sei il papi migliore del mondo dei papi lo so ciao 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 ciao